Musica 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 la deviazione del portiere simoncelli amici nel mezzo il colpo di testa davanti amici casone si fa trovare pronto mamma mia che occasione con faiola la mette in mezzo per duraccio questo pommone questo ballone poi si deve andare in mezzo la rete bel gol bel gol veramente monte san biaggio siamo arrivati al 50 novesimo minuto che c'è la balle in mezzo esposito il settantesimo minuto di gara probabilmente vuole giocarsi anche la possibilità la conclusione centrale del numero 3 roberto galeazzi sulla destra la bella in mezzo attenzione ancora la paella di rigore il colpo di testa il portiere arriva poi c'è una carica sul portiere lavare molto bene è un buon prospetto si può lavorare vale il tiro di testa attenzione la tiro rete amici rete al novantesimo gran bel gol complimenti ad amici probabilmente la metterà in ere di rigore no ma la conclusione di direzione la parata del portiere ed è finita in questo momento ed è finita in questo momento si qualifica quindi il felentino agli ottavi di finale di coppa Italia di eccellenza è finita in questo momento è finita in questo momento è finita in questo momento è finita in questo momento